Con Lorenzo Stovini parliamo innanzitutto degli arbitri perché ieri ne sono successi un po' di tutti i colori in Fiorentina-Milan e anche in Inter-Atalanta. Che cosa pensi della situazione che si è venuta a creare? La solita confusione che magari c'è sempre, episodi chiaramente discutibili tutti, sono stati tanti episodi sia in Fiorentina-Milan che in Inter-Atalanta. Sono cose che succedono, ormai si sa, così almeno c'è da parlare per una settimana abbondante e anche di più. Dopo il pareggio del Milan sembrava che l'Inter ieri potesse recuperare qualche punto sui rossoneri, invece è arrivata questa sconfitta clamorosa, incredibile. Sì, buttare via una partita così, poter lottare per i treguardi importanti e perdere una partita come ha perso l'Inter ieri sera è veramente dell'incredibile, anche perché a 20 minuti alla fine stavano 3-1, quindi poi tutte le lamenteci sono state, mi sembrano anche un po' fuori luogo, perché alla fine sì, posso capire che magari il rigore 3-2 non c'era, però insomma a 20 minuti alla fine vinci 3-1 e riesci a prendere tre gol, una squadra come l'Inter, insomma c'è poco da lamentarsi, credo. Da difensore che cosa pensi della retroguardia nera-azzurra che ha incassato gol discutibili? No, è normale, quando vinci 3-1 e prendi tre gol in 20 minuti è normale che c'è tante cose da rivedere, quello sicuramente, sono grandi squadre, sono squadre sempre diciamo in cima alla classifica, però insomma una squadra come l'Inter che prende tre gol in 20 minuti e vuole lottare per i treguardi importanti, c'è veramente da rivedere tante cose, presumo. Parlando un po' delle tue ex squadre, il Catania ha fatto sicuramente un campionato eccellente, pensi che possa avere qualche chance di arrivare in Europa League? Ma è difficile, insomma ci sono altre squadre davanti e anche molto più attrezzate, comunque per adesso sta facendo un campionato, credo alla grande, insomma meglio non si potrebbe fare, però io chiaramente da tifoso da Fiorentina spero che la Fiorentina riesca ad arrivare in Europa, però il Catania ancora non è detto l'ultima parola, perché insomma ci sono ancora qualche partita, quindi può ancora lottare, certo è normale che non è in questo momento la favorita, però insomma gli auguro tutto il bene possibile per poter arrivare magari in Europa, anche se magari poi si libera un posto con la finale di Coppa Italia. Al di là dei meriti di Maran, quali sono secondo te i segreti del Catania, che ormai da qualche anno a questa parte sta facendo molto bene? Intanto è una società consolidata nel tempo, è diversi anni che è in Serie A, ha sempre scelto giocatori oculati, ammirati e soprattutto anche giocatori di categoria, di qualità, quindi tutte cose che è messa insieme, insieme anche la tifoseria che è sempre stata vicina, non ha mai messo in difficoltà i giocatori della società e i risultati poi alla lunga si vedono. Abbiamo parlato del Catania, una delle tue ex squadre, scendendo invece in Serie B, sta facendo molto bene l'Empoli che sta cercando di agganciare i play-off. Sì, sì, no, a livello di squadra sia le mie ex squadre, l'Empoli e il Brescia stanno facendo bene, insomma l'Empoli ormai se i play-off ci dovessero essere, l'Empoli chiaramente è dentro, il Brescia sta lottando con il Novara, parlo solamente, dico che stanno facendo bene, perché poi per il resto, a livello personale, quindi preferisco non dire niente, insomma, anche perché non mi sembra il caso, ecco, ti dico solamente che stanno facendo bene, l'Empoli sta facendo benissimo, il Brescia sta lottando con il Novara per i play-off, se ci saranno, perché chiaramente dipende tanto da, non da solo perché ormai praticamente è già in A, ma da Livorno e dal Verona, però dico solo che stanno facendo bene, e poi per il resto non è che devo augurare niente, quindi non mi interessa quello che fa l'Empoli né quello che fa il Brescia. Ti fa ancora male il trattamento che hai ricevuto da queste squadre? Beh, quello farà male sempre probabilmente, perché insomma, dopo la carriera che ho fatto è normale che faccia male, poi se tu mi chiedi giustamente come stanno andando è normale, l'Empoli sta andando alla grande e il Brescia sta lottando con il Novara, però ti dico solamente quello che vedono tutti, ecco, poi per il resto non è che devo augurare niente, non mi interessa se rimangono in Serie B o se vanno in Serie A, sinceramente non mi interessa niente.